la quantità d'oro nei nostri forzieri è stabile signore il castello e il granaio di sir william sono situati oltre il ponte a nord se vogliamo davvero aiutare la sua gente dobbiamo incaricare i nostri carrettieri di recapitargli subito i beni impossibile costruire in questa posizione mio signore scegli i beni sire annullo la spedizione mio signore servono altre reclute sire le nostre riserve di cibo sono scarse sire sarà arduo rifornire bene di cibo entrambi i castelli i popolani hanno visto degli orsi scorrazzare liberamente si sentono tutti un po' a disagio impossibile costruire in questa posizione mio signore scegli i beni sire scegli i beni sire scegli i beni sire i beni sono stati inviati mio signore scegli i beni sire indica la quantità i beni sono stati inviati mio signore indica la frequenza delle spedizioni indica la quantità La tua popolarità sta calando, scegli la meta Il popolo ti stima molto, signore Il popolo ti stima molto, signore Impossibile costruire in questa posizione, mio signore Impossibile costruire in questa posizione, mio signore Impossibile costruire in questa posizione, mio signore Scegli i beni, sire Scegli la meta Scegli i beni, sire Scegli la meta Scegli i beni, sire I beni sono stati inviati, mio signore Scegli i beni, sire Annullo la spedizione, mio signore Il numero di abitanti della terra di Sir William aumenta costantemente Deve essere la qualità dell'aria In questo modo crescerà il fabbisogno di cibo Servono altre reclute, sire Scegli i beni, sire Annullo la spedizione, mio signore Annullo la spedizione, mio signore Impossibile costruire in questa posizione, mio signore Scegli i beni, sire I popolani hanno cibo a volontà Questo ha un effetto benefico sul tuo onore Servono altre reclute, sire Scegli i beni, sire Scegli i beni, sire Indicateci il bersaglio Arcieri in movimento Le paludie est sono prive di risorse produtte Abbiamo un altro territorio, mio signore Ma non è certo dei migliori Pullula di malattie E sembra che i ratti abbiano già infestato il nostro castello Il villaggio è in condizioni pessime, mio signore Se vogliamo bonificarlo, per prima cosa consiglio di avviare la produzione di cibo Cosa desiderate, signore? Arcieri pronti? Il morale degli uomini è alto Arcieri, in marcia! Ai vostri ordini Impossibile costruire qui, mio signore Il terreno è troppo accidentato Impossibile costruire qui, mio signore Il terreno è troppo accidentato Non ci sono lavoratori in questa struttura, sire I vostri leali arcieri Occhi aperti, ragazzi Il popolo ti ama, mio signore Il terreno è troppo accidentato Impossibile costruire qui, mio signore Il terreno è troppo accidentato Il popolo ti ama, mio signore Impossibile costruire qui, mio signore Il terreno è troppo accidentato Ah, ora va meglio Niente più ratti e niente più rifiuti puzzolenti Il terreno è troppo accidentato